Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sempre qua dal vostro forte gigante, oggi siamo su Geometry Dash No, ecco Vabbè, a parte gli scherzi ragazzi, oggi siamo su Geometry Dash E cominciamo appunto un nuovo gioco, allora, via come va Ok Allora, cioè, sto gioco così starebbe dove tu sei inquadrato, vabbè, penso che lo conoscono tutti Perché sto gioco esiste da anni, sì E raga, ho sentito dire che se ci giochi potresti ucciderti, sì, ho capito bene Quindi, ragazzi, siamo sul razzo, bella roba, bella cosa, sì, 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 bella roba, bella roba Allora, ragazzi, oggi, ragazzi, oggi il forte gigante ha imparato come guidare l'astronavi, no? Vabbè, raga, che io Io, raga, veramente su questi giochi Oddio, io non so come, cioè, io su questi giochi, raga, non sono per niente bravo E stranamente sono davanti, dovevo stare zitto Cioè, a parte gli scherzi, però, raga, cioè, qui non posso neanche stoppare Perché va così veloce che non riesco manco a stoppare Cioè, guarda, guarda, vedi? Aspetta un attimo, raga, un attimo, volevo vedere una cosa, un secondo Allora, ho visto che si poteva modificare, tipo Proviamo a farlo, tipo, con la faccina così No, così Sì, però ci sta Va bene Ok, perfetto Così mi va bene Così mi va bene Ok, ragazzi, così mi va più che bene Perfetto, adesso sembro un figo, amico mio Allora, ragazzi, non so come avevo fatto prima di arrivare fino a quel punto lì Cioè, ne giuro, veramente Vabbè, noi, nel dubbio, noi ci riproviamo Noi non ci arrendiamo Con sto quadro, con sto studio quadrato Mannaggia, in mortacci sua Però è fighissimo La musichetta E' bellissima la musichetta, ragazzi Veramente, qualcosa di incredibile La musichetta E' bellissima la musichetta E' bellissima la musichetta Qua, ok, ok, perfetto Regà, ho superato il punto in cui ero morto Regà, concentrazione al massimo Ok Dai Dai, ti prego No, 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 no Cioè, ragazzi, io non ci voglio credere E' apparsa la pubblicità Mentre stavo andando avanti E mi ha fatto perdere solo perché c'era La pubblicità Cioè, per farvi capire Cioè Cioè, raga, non ho parole Veramente, giuro Io non ho parole Per il gioco Cioè Nel senso Cioè Mannaggia, in mortacci sua Oh, e siamo tornati all'astronave, signori Almeno questo Pilota forte e gigante, signori No, ragazzi, veramente Però sta roba Cioè, veramente Ti fa Non ci fa E' meglio che non vi dica niente Perché Sta roba Vi rovinerà la vita Figuro Cioè Raga, io sto gioco Sarà un video sfogo questo Perché Cioè Se giochi a sta roba Non ci posso credere Ok, rieccoci qua, signori Questa volta Non dobbiamo sbagliare Giuro Non dobbiamo sbagliare questa volta Vai, 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 vai Raga, conci Sto concentratissimo Aiuto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Questo pure E' il primo livello Quindi non immagino gli altri Vai, sì Ancora Non si è la supposta La Il razzo Come si chiama Ammazzo chiunque abbia creato sta roba, giuro Ah, poi rega, ho ricominciato perché sono andato un attimo nel menu Lo giuro, io 95 Cioè, vi sembra normale sta cosa? Cioè, io non lo so, veramente, Massimo Io non ho parole, cioè, non posso dire altro che io non ho parole Ok, rega, ci risiamo Dai, dai Dai, gacchio, dai Scusate, rega, se a volte sto zitto Perché mi devo concentrare Raga, passo 95 Va benissimo, anche se è il primo livello Andiamo direttamente al secondo Basta, non mi ne frega più niente Beh, cioè, se mi iniziati malissimo Rega, ma Voi come fate a giocare a sta roba? Cioè, ci sono alcuni che ci giocano ancora Vabbè, dai Musichetta è figa Il gioco che È il gioco che ti fa bestermiare, no? Però in tutto ciò è figo anche la musichetta, eh Però Perché sono un rallentatore? Ok, guys Sono già arrivato all'astronale Cioè, cose che veramente Ma si può? Sì, ma si può Serio Vabbè, rega, sentite Io riprovo il primo Pro Provo a riprovare Cioè, riprovo Oh, Gesù Ok, ragazzi La prima parte l'ho superata La prima parte E raga, io, cioè, veramente Il secondo livello è proprio impossibile Il secondo livello Veramente Quindi è più facile questo Ve lo dico Lo dico subito che è più facile questo Ma rega, veramente Questa sarà una serie Odiosa Vediamo Vediamo Chiamiamola così Una serie molto 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 Ma proprio Molto Tipo Si vede già adesso Che è una serie molto Odiosa Mio Dio Buon Gesù Ti prego Aiutami tu Cioè Guarda Guarda E niente Io, cioè Mi guarda Con quella faccia felice Con quella faccia felice Quel quadrato No Infatti Ma io non sono Per niente felice No Cioè Avete capito Rega Cioè Io veramente Perché me lo so scaricato Cioè Perché anche ci sto facendo un video Cioè Io rega Veramente Non ho parole Cioè io rega Sti giochi per me Li inventano solamente Li inventano solamente Per far bestemmiare tantissimo Giuro Vedi Vedi Guarda Madonna Madonna Guarda Rega Veramente Cioè Guarda Già Già In questo momento Dovrei Dovrei Uscire Però Ho detto No No Io Facciamo Prima Il video No No Ragazzi Mi tocca Fare Prima Il video Porca Misera Che Due Che due Posso dire Non lo so Io vi apro la stirpe Cioè Se Perdi sto gioco Ti apri la stirpe Praticamente Però c'è Veramente Cioè Qualcosa Io non ho parole Rega Non ho parole In modo negativo Non ho parole Nel senso Wow In modo negativo Cioè Per farvi capire Guarda Rega Cioè Veramente Tra Tutti I giochi Che potevo Giocare Sta Sta Roba Poi Cioè Sono io Che faccio Cagare Cioè Per farvi Capire Sono io Che faccio Cagare Cioè C'è poco Da fare Cioè Gua Io Ve lo Giuro Rega Io sto Diventando Un super Sei anni In questo Momento Certo Mi fa schifo Dragon Ball Ma lo sto Diventando Lo stesso Allora Cioè Cioè Rega Ma cosa Cioè Adesso non riesco Manco A passare Per di qua No Io Cioè Bestemmine Ragazzi Quanto siamo A minuti del video Non lo aspetta Vabbè Vabbè Rega Io Vi apro La stirpe Con sta roba Cioè Io Rega Basta Io concludo Spero Che questo video Vi sia piaciuto Lasciate Un mi piace Ma guarda Rega Non ce n'hai neanche Bisogno Cioè Nel senso Perché Sto gioco Ti fa bestemmiare Io Non lo so Se lo riporto Sul canale Sta roba Cioè Scrivete Nei commenti Se la volete Spero Rega Se la volete Ve lo Giuro Che io Vengo A casa Vostra Evite Rubo Ecco Dimentiamola Così E noi Ci vediamo Al prossimo Video Ciao ragazzi